Commentare intanto quell'occasione che hai avuto, che Zappella ti ha messo un bel pallone, la porta era vuota, tu l'hai colpita anche molto bene. Eh sì, no, la devo ancora rivedere, peccato perché comunque ci tenevo tanto a trovare il primo gol con questa maglia, però sono convinto che lavorando così arriverà presto. Tre punti importanti anche alla luce del pareggio della Fermana, sei d'accordo? Sì, 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 assolutamente, era importante trovare i tre punti, oggi non tanto come trovarli, quindi era chiaro che bisognava ritornare i tre punti per darci un po' più di fiducia e di morale, perché adesso ci aspetta veramente un calendario tosto. Un quarto d'ora nel finale ti ha concesso Teri, però credo che hai fatto una buona partita, sia nell'andare a recuperare il pallone, sia nel proporti. Sì, no, chiaro, non sono contento perché sicuramente volevo trovare il gol, perché penso che sia quello che conta per il momento, però sicuramente devo lavorare, devo lavorare di più probabilmente, perché io pretendo molto da me stesso e quindi è chiaro che mi aspetto ancora di più da me. A Carrara hai giocato sulla fascia sinistra dopo l'infortunio di Bocic nel secondo tempo, poi hai giocato a Pontedera contro il Montevarchi da riferimento centrale, oggi hai agito un po' da seconda punta. Se potesse scegliere Rauti, qual è il ruolo dove rende meglio? Penso che punta, sì, punta, seconda punta, penso che sia quello il ruolo, però io in realtà sono un ragazzo disponibile che si tira su le maniche e cerca di fare tutto quello che il mister gli chiede. Perché ho visto che corri tantissimo la preparazione con Iuric, si sente? Assolutamente, è stata veramente una fortuna fare la preparazione con Iuric, ma non penso che ai miei compagni sia andata meglio o peggio, perché qua veramente si corre tantissimo. Perfetto, questa è una bella notazione, grazie, grazie a Rauti.